Ed eccoci qui dopo la lunga pausa del mese di agosto. Confesso che mi sei mancato più del burro di arachidi. Non ho utilizzato tutto quanto il mese per le vacanze siccome me lo hanno chiesto alcuni ma la prima e l'ultima settimana sono state dedicate a dei corsi di aggiornamento in cui ho anche imparato delle cose nuove che mi farà piacere condividere con te. Ho voluto ricominciare con un video piuttosto leggero questa volta niente di impegnativo ma un qualcosa di sicuramente molto ma molto interessante. Parleremo infatti di un problema che affligge ad oggi molti utenti di Windows e cioè Microsoft ha annunciato che a breve sarà sospeso quasi completamente il supporto a Windows 10 quindi niente più aggiornamenti tra qualche tempo. E allora molti sono angustiati all'idea di passare a Windows 11 perché effettivamente sembra essere un sistema che ha ancora delle incoerenze. Ebbene quello che andremo a vedere oggi sarà un sistema che non è una customismo ma trasforma radicalmente Windows 11 rendendolo finalmente coerente fruibile e anche molto ma molto più leggero. Allora ti senti pronto? Iniziamo! Ti piace la nuova inquadratura? No tranquillo non devi assorbirti il mio faccione in primo piano tutto il tempo. Me ne ritorno subito nel mio angolino ma prima volevo un attimo presentarti quello che andremo a fare esattamente nel video di oggi. Il software che vedremo era nato come una vera e propria custom ISO e si portava dietro tutti i vantaggi ma soprattutto gli svantaggi delle custom ISO. Abbiamo installato molti sistemi in passato e abbiamo visto che per installare una qualunque ISO siamo costretti innanzitutto a scaricare un file molto voluminoso di grandi dimensioni. In secondo luogo siamo costretti a trasferirlo su un pendrive. Lo abbiamo fatto spesso con Rufus ma abbiamo visto che tante volte l'operazione non è così agevole. E in terzo luogo soprattutto siamo costretti a formattare il nostro hard disk per installare questo sistema e quindi a perdere tutti quanti i programmi che abbiamo installato e doverli reinstallare e soprattutto a salvare i nostri dati salvo poi rimetterli a posto dopo aver terminato l'installazione della nostra ISO. Ebbene gli sviluppatori di questo programma sono riusciti a trasformare quella che era una custom ISO in un semplicissimo file eseguibile che una volta lanciato va a trasformare radicalmente Windows 11 e a migliorarlo in una maniera incredibile alleggerendolo rendendolo più omogeneo più coerente come andremo a vedere più fruibile più utilizzabile soprattutto più leggero. Va bene bando alle ciance e andiamo a vedere come si installa questo programma. Per mostrarti le operazioni che andremo a fare ho deciso questa volta di utilizzare Microsoft Edge perché si tratta di un browser parecchio diffidente nei confronti di questo file come tutti quanti i programmi Microsoft e potremo vedere un po' meglio come superare le sue rimostranze. Quindi andiamo ad aprire Microsoft Edge e nel motore di ricerca che preferiamo andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. effettuiamo la nostra ricerca e il sito che ci interesserà sarà il primo risultato quello relativo al dominio www.gentiluomo.it. Clicchiamo sul link e andiamo ad aprire la pagina. Una volta aperta la pagina dovremo portarci sulla sezione downloads qui in alto e successivamente scendere fino al file che si chiama Rectify 11. A questo punto cliccheremo sul pulsante file download per andare a scaricare il file di questo software. Potresti impiegarci qualche secondo a scaricarlo perché rimane comunque un file relativamente grosso sono circa 180 megabyte e una volta scaricato ti troverai subito di fronte alla prima rimostranza di Edge che ci informa che è un file che non viene scaricato di frequente e quindi non può garantirne l'attendibilità. Faremo a questo punto un clic sui tre puntini orizzontali questi qui e gli andremo a dire di mantenere il nostro file. A questo punto siccome ci chiede di accertarci che Rectify 11 non sia infetto diremo a questo malfidato di mostrarci i dettagli e di conservare comunque il nostro file. Alla fine finalmente arriveremo a salvare il file sul nostro computer e una volta terminata l'operazione potremo lanciarlo. facciamo quindi un clic su apri file e andremo ad accettare che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo cliccando naturalmente su sì. Possiamo chiudere il browser e cliccare sul pulsante installa ora questo qui il primo. Accettiamo il contratto di licenza cliccando naturalmente sul pulsante accetta e qui potremo andare a personalizzare le modifiche che vogliamo che Rectify 11 apporti alla nostra macchina o meglio alla nostra installazione di Windows 11. A prima vista potrebbe sembrare che le modifiche che Rectify 11 apporta al nostro sistema siano cose davvero di poco conto ma se per caso andiamo ad espandere tutte quante le voci ci accorgiamo che si tratta di modifiche piuttosto importanti. Prescindendo infatti dalle icone di sistema che vengono tutte quante ridisegnate una ad una vedremo che vengono installati dei nuovi temi di grande impatto visivo ma anche molto più leggeri dei temi tradizionali di Windows e che tra gli extra troviamo una serie di voci molto interessanti. Vengono infatti ridisegnati completamente i menu contestuali in maniera davvero ergonomica ed efficiente e già solo questa modifica varrebbe la pena di installare Rectify 11 come vedremo a breve. Vengono rettificati i gadget anche questi li vedremo così come vedremo come viene cambiata la colorizzazione gli sfondi di Rectify 11 e che addirittura le immagini degli account vengono rimasterizzate per renderle più gradevoli. Andiamo quindi ad accettare tutte quante le modifiche almeno io ti suggerisco di farlo tanto comunque è un'operazione pienamente reversibile come tutta l'installazione di Rectify 11 e facciamo clic su avanti. Ci verrà a questo punto chiesto di scegliere il tema che preferiamo. Io in questo caso andrò a scegliere il tema scuro con Mika. Possiamo lasciare non spuntate queste due voci, potrai sperimentare in seguito le lievi differenze che apportano e cliccheremo sul pulsante avanti. Ci viene chiesto come vogliamo ristrutturare i menu contestuali. La cosa che ti suggerisco di fare è scegliere la prima voce. Potrai successivamente sperimentare anche le altre. Facciamo ancora clic su avanti ma prima di fare clic su installa facciamo un piccolo passo indietro perché sarà necessario fare un paragone tra la vecchia e la nuova versione di Windows. Se infatti premiamo sul nostro computer la combinazione di tasti control shift e desc abbiamo la possibilità di andare a vedere come sono le prestazioni della nostra macchina. In particolare vediamo che quando nulla è in esecuzione su questo computer la CPU è impegnata mediamente al 16% circa che la memoria è impegnata al 21% che viene utilizzato il 14% di hard disk. Vediamo come varieranno questi risultati dopo l'installazione di Rectify 11. Quindi ritorniamo al punto in cui c'eravamo interrotti e terminiamo la nostra installazione. Facciamo quindi clic su installa e attendiamo che venga installato questo sistema. Ed ecco fatto neanche il tempo di finire il mio bicchiere di latte e sì sono messo così perché a quanto pare mi hanno messo a dieta dopo i recenti avvenimenti di cui ho parlato nell'ultimo short che il programma ha terminato la sua installazione. Quindi clicchiamo su riavvia ora per riavviare il nostro sistema. Non vogliono proprio farmelo finire questo bicchiere di latte ed eccoci qui nel nostro nuovo Rectify 11. Prima di ogni altra considerazione la prima cosa che andiamo a fare è un confronto con la situazione precedente in termini di risorse hardware. Facciamo quindi nuovamente clic su ctrl shift e desc e diamo un'occhiata alla situazione. portiamoci sulla gestione delle risorse e vediamo cosa è successo. A quanto pare l'occupazione della cpu è scesa al 1 3 per cento mediamente. L'occupazione della memoria è rimasta pressoché identica all'1,7 e cessata ogni attività parassita sul disco c è lo stesso per quanto riguarda la rete ethernet che ho dimenticato di citarti prima. Quindi già dal punto di vista delle prestazioni possiamo dire di aver avuto un buon miglioramento. Ma vediamo che cos'altro è andato a cambiare e a modificarsi sul nostro Windows. Le prime cose di cui ci accorgiamo immediatamente a colpo d'occhio sono il nuovo sfondo più gradevole e più leggero che è stato installato. A me piacciono molto gli sfondi di Rectify 11 e il puntatore del mouse che ha cambiato aspetto in modo da essere più evidente rispetto al classico puntatore bianco di Windows. La seconda cosa di cui ci accorgiamo è che se facciamo un clic con il pulsante destro il menu contestuale è cambiato e in particolar modo tutto quello che era necessario aprire manualmente come ulteriori opzioni nel menu rinnovato di Windows 11 è adesso disponibile sotto la voce altre opzioni direttamente senza bisogno di andare a espandere in alcun modo il menu. Cosa che trovo estremamente utile e come dicevo in fase di installazione già da sola giustifica l'installazione di questo Rectify 11 a parte il miglioramento di prestazioni. Una terza cosa che non ho potuto farti vedere è la traslucenza di questo menu. Non posso fartela vedere perché mi trovo su una macchina virtuale che in questo momento non ha accelerazione 3D anche perché ho cercato di fare una macchina minimale in modo da poter meglio apprezzare le differenze in termini di richieste di risorse hardware. Inoltre una cosa che possiamo vedere sempre per mezzo del menu contestuale è la presenza dei cosiddetti gadget. Se infatti clicchiamo su gadget partirà una brevissima installazione che installerà una barra apparentemente inutile. Infatti anche se andremo a fare clic sul pulsante più aggiungi gadget non funzionerà. E allora come funziona l'utilizzo dei gadget su Rectify 11? Tutto quello che dobbiamo fare è andare qui sul menu start e cliccare sulla voce 8 gadget pack tool. Questa qui. Non posso ingrandire perché non funziona il mio ingrandimento sui menu. Quindi andiamo qui e andiamo a disabilitare questa sidebar per poi tornare nuovamente sull'8 gadget pack tool e andare invece ad aggiungere un gadget tramite la prima voce quella che dice add gadget. Facciamoci click e vediamo che abbiamo la possibilità di trascinare direttamente dove vogliamo il nostro orologio che è naturalmente poi successivamente impostabile qui dalle impostazioni come anche tutti gli altri gadget. Abbiamo la possibilità di usare il gadget del meteo, il gadget del cestino che ci dice quanti oggetti ci sono, quanto spazio occupano sul sistema e che trovo abbastanza comodi e altre varie cose. Ritengo che sia possibile aggiungere ulteriori gadget ma non ho ancora avuto il tempo di approfondire questa tematica. Per rimuovere un gadget una volta installato ci basterà semplicemente fare click sul pulsante chiudi e il gadget stesso verrà rimosso. Un'altra cosa particolarmente apprezzabile che è stata migliorata su Rectify 11 e la sua consistenza. Mi spiego meglio. Come vedi in questo momento sto utilizzando la modalità scura, quella che appunto va a scurire il contenuto della maggior parte delle finestre di Windows 11. E dico la maggior parte delle finestre perché purtroppo gli sviluppatori originali della Microsoft si sono dimenticati di aggiornare determinate finestre come ad esempio il comando WinVR che nel momento in cui vengono aperte sul Windows tradizionale mostrano un'antipatica tonalità di bianco che va a stonare decisamente con il mood complessivo di Windows. Ebbene gli sviluppatori di Rectify 11 hanno corretto anche questi dettagli per cui nel momento in cui andiamo ad aprire WinVR vediamo che la finestra anziché essere bianca è perfettamente in tema e in tinta con il resto del sistema. Da quando ho scoperto Rectify 11 ho iniziato pian pianino ad installarlo su tutti quanti i miei computer con Windows 11. Ho fatto anche qualche prova con i computer di alcuni clienti e tutti quanti si sono mostrati decisamente soddisfatti sia dell'aspetto grafico sia del miglioramento delle prestazioni. Una cosa davvero importante che non ho detto nel corso del video su Rectify 11 è che a quanto dichiarano gli sviluppatori e a quanto ho potuto constatare io di persona è assolutamente compatibile con tutti gli aggiornamenti di Windows. Naturalmente occorrerà un po' di tempo per poterne avere la certezza perché sono cose che si verificano sul lungo periodo ma al momento non ho avuto nessun genere di problema. E sono rimasto invece molto indietro con i miei ringraziamenti durante la pausa di agosto e ci tengo davvero a ringraziare tutti quelli che in questo periodo hanno contribuito alla vita del canale. E parto quindi con gli abbonati ma anche con chi ha rinnovato il proprio abbonamento e quindi ringrazio in ordine un po' sparso lo riconosco Michele Russo, Enzo Ruvioli, Antonino Aragona, I Gatti di Brescello, Mauro Gobetti, Il Grande Darti, Davide Barraco, Sergio Giustri, Claudio Mazzacani e Felinco 50. Per quanto riguarda invece i super grazie devo fare un super ringraziamento a Luciano Noè che è veramente sempre presente sul canale, uno degli utenti più attivi che abbiamo e che ha inviato anche diversi super grazie in questo periodo. Altri ringraziamenti vanno ad Amedeo Magoni, Niccolò Passaglia, a Giovanni Marzari. Grazie a tutti per il vostro supporto ma un grazie speciale anche a te che hai seguito i video durante il mese di agosto e nonostante la mia assenza e quegli orribili messaggi che ho lasciato sul sito hai continuato a commentare. È una cosa che apprezzo davvero tantissimo e che mi ha dato una gioia infinita leggendo tutti quanti i commenti. Mi dispiace non avere avuto la possibilità di rispondere singolarmente ad ognuno ma come ho già detto nello short precedente ho ricominciato a rispondere personalmente ad ogni singolo commento che arriva. Ti chiedo scusa se l'ho tirata per le lunghe ma ci tenevo moltissimo a ringraziare tutti quanti. Naturalmente te compreso e un ulteriore ringraziamento come se quelli che ho già fatto non bastassero per aver guardato il video a questo punto che in questo caso ti fa davvero super onore. E detto questo come sempre non mi resta davvero che salutarti e darti appuntamento alla prossima.